Siamo davanti al pc con la tastiera e sono con Eric, mio professore, che può essere mio figlio. Buongiorno a tutti! Eric Goi, che mi ha fatto il corso da dicembre adesso, aveva tra le mani una handicappata vera e propria. Oggi sono diversamente abile, va bene Eric? Sei super produttiva adesso!